Salve, sono Angela da Sastino di Vivenza, è quasi 4 anni che ho birba e da quando non ce l'ho non sono più capace di farne o meno, specialmente i bagni sono veloci da pulire, ma tutto insieme, qualsiasi cosa, il gas, adesso passo solo con l'acqua, non sarei neanche più che passi detersivi, la consiglio a molti, è un buon affare. Con lo stiro Angela? Con lo stiro anche, molto bene anche con lo stiro, veloce, infatti stiro per tre famiglie, io perché mia figlia, mia nipote, io e in poco tempo riesco a stirare molte cose, insomma è molto veloce. Bene, grazie, un saluto da Sastino, alla prossima, grazie.